Dei laboratori del Gran Sasso il sistema di prevenzione degli incidenti è adeguato alla normativa e il piano d'emergenza è stato aggiornato. Ammetterlo per iscritto il Ministero dell'Ambiente dopo le numerose sollecitazioni dell'osservatore indipendente per l'acqua del Gran Sasso che riunisce 11 associazioni e si batte da anni per la tutela dell'acquifero. Ma l'osservatorio non è del tutto soddisfatto e sottolinea come ad oggi del finanziamento dei lavori necessari per la messa in sicurezza non vi sia traccia. Una situazione un po' in chiaro scuro. Chiaramente prendiamo sempre in modo positivo il fatto che il percorso indicato ormai da diversi anni inizia ad articolarsi ed è fatto da più azioni. Non abbiamo compreso perché la Regione rimandava entro il 2020 la chiusura di un piano di sicurezza totale come ad esempio ancora non pensiamo che non sia sufficiente il ruolo della politica perché è bene produrre tutti quanti i documenti necessari però ad esempio non si comprende perché ancora lo stoccaggio di tutte quelle materie che sono necessarie all'interno del laboratorio per fare gli esperimenti stiano ancora lì e sono una minaccia concreta e reale nei confronti dell'acquifero e della qualità delle nostre acque. Quindi pensiamo che sia giunto il momento che la politica, quei 170 milioni di euro che noi abbiamo indicato con una legge speciale per la messa in sicurezza del Gran Sasso ma che ci sono anche proposte come quelle dell'onorevole Moroni con un tavolo tecnico nazionale con i vari ministeri iniziano a prendere corpo. Sotto questo aspetto diciamo che l'osservatorio ha iniziato già un proprio percorso diretto di relazione con le commissioni parlamentari cercando un canale dato che i sindaci dovrebbero essere i soggetti più interessati perché i primi cittadini sono ancora un po' latitanti. Intanto il Comitato Via della Regione Abruzzo, chiamato ad esprimersi sulla valutazione di incidenza ambientale del potenziale impatto del progetto di costruzione del nuovo acceleratore Luna MV nei laboratori sul sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale del Gran Sasso ha chiarito che non basta questa procedura ma deve essere svolta la più ampia verifica di assoggettabilità via a causa dell'uso di acqua di raffreddamento, ben 7 litri al secondo. La mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso giudica positivamente la decisione del Comitato Via sia per gli aspetti normativi richiamati sia per una verifica stringente dei requisiti di sostenibilità del progetto.